Per attrarre investimenti in Toscana, il presidente della regione Enrico Rossi lancia i Toscani Business Advisors, una rete di capitani di azienda che, in veste di consulenti, si faranno portavoce presso le comunità di affari nazionali e internazionali, delle buone pratiche e dei vantaggi di lavorare e produrre in Toscana. La novità è stata presentata nell'ambito di Toscana Tech, la manifestazione sull'innovazione e l'industria 4.0. I primi quattro advisor hanno ricevuto il Pegaso d'Argento e sono Charlie McGregor, fondatore e CEO di The Student Hotel, Davide Papavero, Global Industrial Director per la Global Business Unit Soda Ash e Derivati, Vincenzo Poerio, presidente del distretto nautico toscano ed Elena David, membro del CDA di Fideuram in Tesa San Paolo. Altri tre hanno già accettato l'invito e altri seguiranno. Noi imprenditori, amministratori delegati anche di importanti imprese internazionali e multinazionali che hanno fatto una buona esperienza in Toscana e che sono disponibili a raccontare che in Toscana se si vuole investire si trovano le condizioni per farlo, per farlo in tempi adeguati, per ottenere i permessi, per ottenere i supporti e i sostegni che possono essere dati anche sul piano della formazione, della ricerca, utilizzando bene i fondi europei. All'interno della regione è in funzione Investi in Tascani, un ufficio che fa capo alla Presidenza e ha il compito di dare risposte veloci ai problemi burocratici delle aziende che vogliono investire in Toscana. Fra il 2010 e il 2017 le imprese straniere che hanno investito in Toscana sono aumentate del 7%, portando la regione al terzo posto in Italia per attrattività dopo Lombardia e Lazio.